Ti insegno un gioco di magia spettacolare, ti basta solo un normale mazzo di carte. Una volta preso il mazzo di carte e averlo tagliato un paio di volte, chiederai allo spettatore di prendere un mucchietto di carte e di mescolarlo. Mescolarlo a piacere e una volta che ha mescolato le carte, gliene fai pescare una e gliela fai memorizzare. Ad esempio, otto di quadri. Metti la carta sopra e fai concludere il taglio. Può tagliare più e più volte lo spettatore, puoi tagliare più e più volte tu. Anche al contrario, in questo modo lo spettatore vede che non c'è alcuna magia in atto. Ora dirai allo spettatore che semplicemente passando la mano sopra, la sua carta si trova in undicesima posizione a partire dall'alto. Impossibile, vediamo un po'. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undicesima posizione, otto di quadri. Ma come ho fatto? Te lo spiego subito. Per eseguire questo gioco devi fare un piccolo setup al mazzo. Tutte le carte mescolate in ordine casuale e poi prendi picche, cuori, fiori o quadri, dall'asso al re, tutta la stessa scala e la metti in ordine. Dall'asso al re. Questa la metti in fondo a tutto il restante mazzo. Ora puoi eseguire dei finti tagli. L'importante è che ci sia sempre in fondo la scala. Puoi anche fare dei finti tagli in questa maniera. L'importante è che ci sia sempre in fondo la scala. Tutti i finti tagli li trovi sul mio profilo qua. Una volta fatto questo, prendi un gruppetto di carte. Puoi farlo scegliere anche lui, basta che guardi e osservi che non vada troppo in fondo, perché sennò arriverà sulla scala che non deve essere toccata. Quindi per non rischiare lo fai tu. Prendi un gruppetto e fai mescolare anche lui le carte. Una volta fatto questo, gli farai scegliere una carta, otto di quadri, la fai mettere in cima, chiudi il taglio, quindi adesso qua ci sarà la sua scala che ti servirà, tagli più e più volte, non ci interessa, tantissime volte tagli il mazzo, lo tagli anche di faccia perché ti serve per vedere una qualsiasi carta di picche. Ecco, quando trovi una carta di picche, ad esempio l'otto, ti fermi. La sua carta si troverà in ottava posizione. Il numero corrispondente è il posto giusto. Quindi, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ecco l'otto di quadri. Gioco semplicissimo, ma di grandissimo impatto. Se ti è piaciuto, seguimi se ti piace la magia, condividi sempre il video e salvalo tra i preferiti.